Michiro Caio è una violinista di fama internazionale, roba che stradivaria il confronto siamo noi alle medie che suoniamo con il flauto la pasta barilla. Di Michiro non si sa niente nei genitori, nel lavoro, da dove venga lo sport preferito, anzi no quello sì il nuoto, così da poter esibire costumi da bagno di ogni foggia, tra cui anche un imprudente indumento bianco che tutti noi sappiamo che cosa succede a un costume da bagno bianco quando si bagna ma questo è un anime e non diventa trasparente. In compenso l'abbiamo vista con un costume dolce vita con collo alto e audaci evanescenze che scusate se sono troppo per voi o una roba piena di fiocchi che manco la bambola priscilla. poiché se sei artista mica puoi solo strimpellare su un pezzo di legno della Val di Fiemme. Val di Fiemme, Valle Trentina dai cui boschi si ricava un legno pregiato per realizzare i celibri violini stradivari. Michiro è anche pittrice, cosette carine, rassicuranti tipo la fine del mondo. Michiro avrebbe continuato volentieri a fare la spocchiosa musicista conosciuta in ogni dove o la Van Gogh al profumo di soba ma il destino. Le ha detto un giorno no cara tu sei sailor neptune e devi combattere il male e se ti ritrovi in italia verrà pure chiamata Milena. Ed eccola qui la guerriera protetta da Nettuno pianeta di mari dotata anche di specchio un talismano che identifica peraltro perfettamente la sua indole umile e poco vanitosa del tipo sono gnocca sì e lo so. La cosa positiva della signorina Caio è che è stata accessoriata con un potere molto pratico il maremoto di Nettuno perché pratico perché lo puoi trovare per pochi euro anche da Tiger. La vita di Michiro Caio è intrecciata con quella di Haruka Tenu allora le due signorine sono compagne di vita nel senso che si amano vivono insieme hanno una immagino regolare vita sentimentale non sono migliori amiche come ci dissero in italia o cugine come in altre parti del mondo scatenando peraltro anche reazioni divertite e canzonatorie con loghi variegati. Fior fior di psicologi hanno visto questo rapporto come una cosa gravissima e che avrebbe potuto sconvolgere le deboli menti di noi allora ragazzini e per questo doveva essere nascosto ma evidentemente siamo tutti delle creature superiori perché siamo ancora tutti vivi e tendenzialmente psicostabili anche dopo aver conosciuto la verità siamo dunque dei sopravvissuti o creature supreme o divinità nascoste o semplicemente non c'era chissà che di sconvolgente ma chissà quale sarà la risposta giusta. Michiro Caio, Milena, Sailor Neptune, Federica Pellegrini del Monte Fuji la tua supponenza deve essere biasimata perché è inutilmente arrogante evocare poteri fantastici che poi si trovano nei negozi a poco prezzo o costumi che non si potrebbe nemmeno permettere nomi Campbell da tanto sono sgambati per espiare almeno un anno di cellulite e saluti alla cugina pronto per un con... sì voi siete occupati senza stile che non capite la musica. Dal resto vivo d'invidia!